Come Regione Emilia Romagna abbiamo fortemente voluto questa seconda giornata perché crediamo di essere in una regione dove la green economy è realtà. Sia dal punto di vista dei consumatori, quindi dei cittadini, ma anche da parte degli imprenditori, da parte delle istituzioni, c'è una grande consapevolezza che il green, quindi l'innovazione rispetto alle tutele ambientali, possa rappresentare una grande opportunità di sviluppo del nostro sistema economico e quindi con la costruzione di nuove professionalità e soprattutto di nuovi posti di lavoro. La giornata sarà composta assieme agli altri colleghi assessori perché riteniamo che il green sia trasversale a tutte le nostre politiche regionali e cercheremo di far comprendere proprio con esperienze concrete di imprenditori o di amministratori, quindi categorie diverse, quanto l'economia verde sia già fortemente caratterizzante la nostra regione. Il primo marzo del 2017 in assemblea abbiamo approvato il nuovo piano energetico, un piano energetico costruito dal basso con la partecipazione di tutti gli stakeholder regionali e soprattutto molto sfidante. Noi al 2030 assumiamo gli obiettivi di COP21 di Parigi e prevediamo un 40% di diminuzione delle emissioni in atmosfera, il 27% di efficientizzazione energetica per cui risparmio e il 27% di energia prodotta con fonti alternative. Noi abbiamo accompagnato questo piano energetico con un programma triennale di investimenti per 248 milioni di euro e agiremo in modo puntuale su alcuni temi fondamentali. In primo luogo il tema dell'edilizia, del costruito, lavorando sia sul risparmio energetico con attenzione alle abitazioni private e per arrivare a delle abitazioni ad emissioni zero e lavoreremo anche su tutta la parte pubblica con l'efficientizzazione di tutti gli edifici, voglio dire, del pubblico. Secondo punto importante è l'intervento sulle imprese che rappresentano una parte, voglio dire, importante anche delle risorse che mettiamo a disposizione affinché possano efficientarsi, avere energie da fonti alternative e recuperare anche il calore termico. L'altro punto importante per noi è rappresentato dalla mobilità, i trasporti quindi dove punteremo soprattutto sul trasporto collettivo ma anche su auto elettriche e mezzi ad idrogeno. Il tutto viene accompagnato da un forte investimento sul tema della ricerca, della conoscenza e delle nuove tecnologie. Noi abbiamo un sistema di laboratori dell'alta tecnologia che già oggi rappresentano un'eccellenza, stiamo lavorando con il sistema delle imprese e crediamo che la ricerca e le nuove tecnologie potranno dare delle risposte straordinarie rispetto ai temi che abbiamo posto come obiettivo. Altri due punti importanti sono il rapporto con gli enti locali, gli enti locali saranno i nostri partner fondamentali con i loro Paes per una diffusione cappellare e l'altro punto sono i cittadini, cittadini che sono anche i consumatori, quindi saranno i nostri alleati, pertanto formazione ed informazione rappresenteranno gli altri due driver fondamentali per l'attuazione del nostro piano energetico regionale.